Ciao a tutti, ben ritrati e benvenuti per chi non fosse mai passato sul mio canale. Come ogni mercoledì raccogliamo le news dell'ultima settimana all'interno del mondo cripto. Prima di partire ragazzi vi invito ad iscrivervi subito al mio canale ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni. Mi raccomando mi dareste una grossissima mano in questa fase di crescita della community. Partiamo come sempre con il grafico di Bitcoin. Bitcoin che ha distrutto la mia diciamo visione ribassista del mercato poiché c'è stato un forte balzo proprio il giorno dopo o due giorni dopo il video di scorsa settimana dovuto ad un insieme di notizie. Un insieme di notizie tra cui Elon Musk, la questione Reddit, la questione GameStop che andremo a trattare successivamente. Ho deciso di aspettare per parlare di tutto ciò per calmare un pochino l'ambiente poiché stiamo comunque discutendo di un argomento molto sensibile. Bitcoin che oggi si presenta con un'altra candela verde. guardate qui siamo in un intervallo tra i 35.000 e i 37.000 quasi e potenzialmente potrebbe arrivare un altro rialzo. Questo non lo dico io ma tutto un pochino dipende da quello che avverrà con Grayscale. Per quale motivo? Da questo articolo noi possiamo analizzare il low cap del Grayscale Bitcoin Trust, questo GBTC. termina oggi di mercoledì. Questo cosa potrebbe portare? È stata fatta un'analisi verso fine dicembre dove è stato spiegato il fenomeno collerato ai prezzi al premium di acquisto di questo Trust. Sembrerebbe che nel momento in cui vengono rilasciate, quindi termina il periodo di low cap, Bitcoin sembra sempre spostarsi verso l'alto. Quindi potrebbe già aver iniziato un rialzo del suo prezzo. Quindi con questo sblocco previsto per oggi potrebbero crescere eventuali aspettative per quanto riguarda la bull run di Bitcoin. Io sinceramente non mi aspetto un boom del prezzo di Bitcoin. Questa mattina già vederlo in verde mi fa sotto un certo punto di vista sorridere. Sono contento, spero che nel bottom che c'è stato settimana scorsa qualcuno abbia avuto la possibilità per entrare nuovamente con qualche posizione all'interno del mercato. Il discorso è che questa inversione di tendenza secondo me è partita proprio da Elon Musk. Elon Musk che su Twitter, proprio nei giorni in cui è accaduto tutto il fenomeno GameStop, ha eliminato la sua bio completamente e ha semplicemente postato l'hashtag con Bitcoin. Questo ha nel giro di pochissimi minuti barra ore fatto salire il prezzo dal bottom di 30.000 fino a raggiungere addirittura 38-39.000 dollari. È tutto sceso, si è tutto diciamo calmato poi il mercato. Addirittura c'è stato anche un piccolo ritracciamento fino a 31.000. Quindi diciamo che c'è stato un mini pump and dump del prezzo dovuto al potere mediatico che oggettivamente ha Elon Musk. Elon Musk che tra l'altro non ha pompato soltanto Bitcoin, ma un miscuglio tra quelle che sono le notizie uscite su WallStreetBets da dove è partito lo short squeeze di GameStop, ha fatto salire Dogecoin del 300-400% nel giro di 24 ore. Hanno pompato Dogecoin senza un valido motivo. Ricordiamo che Dogecoin tecnologicamente non porta nulla di vantaggioso e di estremamente innovativo. Nasce come una moneta troll. Quindi ecco perché ho deciso di aspettare oggi per parlare di tutto quello che è l'argomento, short squeeze, pump and dump che poi si vanno a generare, che a mio avviso sono malsani per tutti i mercati, sia cripto sia tradizionali. GameStop nasce tutto all'interno del mondo di Reddit, presso questa pagina WallStreetBets dove un insieme di individui si sono organizzati per fare un mega pump del prezzo, dello stock di GameStop. Ci sono riusciti anche molto bene perché hanno fatto salire il prezzo da 90 dollari a circa, addirittura il picco qui me lo segna 500, quindi diciamo un 500% in più. Questo evento ha scosso il mercato regolamentato. Perché? Questi praticamente ragazzi retailer piccoli investitori sono riusciti a manipolare il mercato regolamentato, semplicemente andando ad acquistare nello stesso momento uno stock che non se la passava molto bene. Quindi hanno tentato volutamente di rialzare il prezzo. Questo perché? È avvenuto lo short squeeze. Gli hedge fund che in quel momento erano posizionati in modo ribassista, quindi stavano shortando lo stock, che significa prendono a prestito lo stock e puntano su una sua discesa del prezzo. Quindi il loro guadagno è proprio questo, andare a scommettere sulla discesa. Nel momento in cui i retailer sono riusciti a pompare il prezzo, gli hedge fund per proteggersi dalle perdite hanno dovuto acquistare lo stock per chiudere le posizioni che loro avevano preso a prestito. Si è creato praticamente un circolo vizioso. Per limitare le perdite gli hedge fund hanno dovuto quindi acquistare a loro volta lo stock e il pump è cresciuto notevolmente. Peccato che gli hedge fund hanno avuto delle grosse perdite ed era l'obiettivo del gruppo di reddit. I problemi sono arrivati successivamente, perché la piattaforma Robinhood, dove principalmente questi retailer siano organizzati per acquistare, ha bloccato praticamente gli acquisti e le vendite sullo stock. Per quanto possa essere lecito sotto un certo punto di vista, poiché i rischi di grosse perdite per i retailer erano quasi sicure, infatti guardate il dump che ha fatto ritornare ad oggi il prezzo più o meno stabile al pre-pump, bisogna dire che Robinhood ha bloccato probabilmente le posizioni perché ci sono dei collegamenti con gli istituzionali. Una manipolazione del prezzo così importante all'interno del mercato regolamentato, soprattutto fatta dai retailer e non dagli istituzionali, ha probabilmente fatto sorcere il naso a qualche big. Ecco perché sono andati poi a bloccare lo stock. Il problema grosso, a mio avviso, è che perché quando la manipolazione del mercato che esiste nel mercato regolamentato, è in dubbio che esista, quando viene fatto dall'istituzionale è corretto e quando viene fatto dai retailer non è corretto? Perché questo? Io penso che in entrambi i casi sia un movimento non sano, perché chi ha investito nel rialzo, probabilmente qualcuno ha guadagnato perché ha venduto le sue posizioni al picco, ma chi ha lasciato e ha tentato di comprare al prezzo più alto adesso si ritrova con una perdita notevole in portafoglio. Guardate qui dove è ritornato il prezzo. Questa moda, perché poi si è trasformata in una moda, vedasi Dogecoin, vedasi adesso l'argento, vedasi il caso XRP che andremo a trattare a breve, ha rischiato di far perdere una quantità di denaro notevole a chi non è un investitore professionale e non va assolutamente bene. L'unica apertura importante è che il mercato regolamentato ha subito una forte manipolazione non più dagli istituzionali ma dai retailer. Può andare un po' a favore a quello del mercato cripto, perché da sempre il mercato cripto era stato criticato per un'alta volatilità e una facile manipolazione e mentre ad oggi 2021 vediamo che anche nei mercati regolamentati possono esserci dei casi gravi di manipolazione, che possono causare grosse perdite a tutti, perché qui non ha vinto nessuno con questo pump and dump e non ha vinto nessuno nemmeno con gli eventi di Ripple, dell'argento e di Dogecoin a mio avviso. Ripple è stata presa di mira sempre da WallStreetBets, da qui hanno creato dei canali Telegram, dove all'interno si sono organizzate più di 300.000-400.000 persone per effettuare un pump alle ore 14.30 italiane di lunedì. Peccato che questa organizzazione, visti i precedenti episodi, era un po' sulla bocca di tutti, quindi ne hanno approfittato molti per speculare su quello che era il prezzo di Ripple, ma prima, non nel momento del dovuto pump. Difatti alle 14.30 c'è stato uno scontro a livello di volume tra ordini di acquisto e ordini di vendita. Non è successo quello che doveva succedere, infatti il prezzo è sceso invece di crescere, ma se si va a vedere il grafico di Ripple, il prezzo ha raggiunto il picco 3-4 ore prima del momento in cui sarebbe dovuto avvenire il pump. Questo perché è tutta questione di psicologia. L'attesa del pump ha invogliato molte persone ad acquistare prima Ripple pensando di arrivare nel momento del pump e vendere le loro posizioni. Così non è avvenuto. Molti hanno perso soldi, tantissimi hanno perso soldi, pensando di farla franca in questo modo. Vedete quindi qual è il problema? Si prende esempio da GameStop che ha avuto successo, si emula in modo malzano in un altro mercato e con un altro asset e poi si rischia di andare praticamente in forte perdito fallimento. Ecco perché a me non piacciono questi sistemi speculativi e di manipolazione. Qual è il discorso finale? Dovremmo a mio avviso allontanarci dal guadagno facile perché siamo sempre fortemente influenzati da voler guadagnare in modo rapido e senza problemi tramite questi metodi. Purtroppo non è assolutamente possibile. Anzi, con queste organizzazioni a livello di tempo ecco cosa succede. si perdono soltanto soldi. Io personalmente sono fortemente contro. Vorrei terminare questo video parlandovi di un nuovo Oltemai. L'Oltemai di Ethereum che ha toccato per la prima volta in assoluto 1575 dollari. Sono molto contento perché Ethereum è un progetto innovativo. Il mercato DeFi, il mondo DeFi che lo circonda è eccezionale. Ci sono delle migliorie da fare a livello network. Si stanno già occupando con Ethereum 2.0 a risolvere i problemi di scalabilità e Ethereum può regalarci delle notevoli sorprese in questo 2021. Probabilmente di più nel 2022 con Ethereum 2.0. Per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi mando un grossissimo saluto e ci vediamo in un prossimo video.